ma sì dai uno di questi giorni vengo a trovarvi dai facciamo questa cosa che è divertente ci vediamo è capitato oggi non a caso Gianni Morandi a Radio Bruno buongiorno ragazzi come stiamo? Noi stiamo molto bene la domanda la giriamo subito a te però come stai Gianni? Ma dai mi sento bene mi sento di umore bene c'è ancora qualche problemino con la mano ma insomma però visto che riesce a scrivere riesce a tenere il microfono niente era scontato ti sei impegnato tanto con la fisioterapia beh è continuo eh tutti i giorni devo fare fisioterapia perché la mano non riesco ancora a articolarla bene la sinistra un po' meglio un po' meglio senti caro Gianni non è un caso che abbiamo cominciato questa chiacchierata sul finire della canzone di Neck perché c'è qualcosa che vi lega eh sì un incidente quasi contemporaneamente alla mano eh vi ha unito questo? Eh beh effettivamente ci siamo scambiati tanti tanti messaggi e tante telefonate notturne quando io ero ricoverato a Cesena e e ci sentivamo di notte perché Filippo aveva questo problema alle mani e ancora sta combattendo con la fisioterapia come me quindi ci scambiavamo beh allora come va come come ti senti riesci a suonare io all'epoca ero stavo piuttosto male stiamo parlando di marzo dell'anno scorso quindi l'incidente è successo l'11 marzo quasi un anno fa già è quasi un anno però ecco le le cicatrici da ustione continuano a vivere a muoversi per mesi e mesi e mesi sembra che ancora vada avanti poi dovrò operarmi qui che ho vedi questo dito è rimasto è rimasto tu sei stato in terapia intensiva quasi un mese tra l'altro sì ho stato 27 giorni lì a Cesena e appunto in quelle notte ci sentivamo con Filippo che poi alla fine ha pubblicato il suo libro e mi ha chiesto se volevo scrivere qualcosa e io ho raccontato questa nostra esperienza insomma la prefazione ho letto la prefazione molto carina molto delicata davvero e fa capire anche quanta vicinanza abbiate vissuto è stato un bel modo per darvi una mano reciprocamente noi in un momento di grande disagio effettivamente sì io le sue parole mi confortavano non so se le mie confortavano lui ha detto di sì anche se poi a Sanremo tradito con Massimo Ranieri lo hai chiamato il giorno che va a Sanremo pubblica una foto verso Sanremo lui nel suo profilo e tu dici ma dove va poi avevo letto sul giornale che faceva il duetto con Massimo Ranieri lo chiamo subito dove sei ma sono già qua verso Piacenza ma dico ma che cavolo di amico sei vai col mio nemico vai con Ranieri che è il mio rivale rivale storico tra l'altro no da tantissimi anni adesso molto meno però Gianni tu per rifarti però poi ti sei hai chiamato giovanotti insomma alla fine no? Ah gli ho detto va bene non vieni con me allora chiamano giovanotti direi che è stata una scelta oculata va bene beh lui aveva scritto anche la canzone di Sanremo quindi alla fine l'ho quasi costretta a venire insomma è stata una bellissima performance tra l'altro vestiti in modo proprio straordinario e gli unici che hanno pensato in modo geniale di fare i loro pezzi e non pezzi di altri su quel palcoscenico gli avete fatti bene manco a dirlo bisogna anche dire che però bisognava fare dei pezzi di quegli anni 60 70 80 i ragazzini i ragazzini non potevano averceli è vero anche se Mahmood e Blanca hanno fatto il cielo in una stanza ma non è un loro pezzo voglio dire certo così come Elisa come gli altri però è venuta un'idea a Lorenzo dice oh ma in quegli anni ce l'abbiamo i pezzi perché non facciamo i nostri qualcuno ha detto eh beh ma allora è troppo facile se si poteva fare tra l'altro tu hai venduto qualcosa come 53 milioni di dischi abbiamo parlato degli anni 60 era il 1962 l'anno del tuo primo disco quindi facciamo un sessantello quest'anno festeggi in modo particolare hai qualche idea speciale sui 60 anni ma no ci pensavo dico ma 60 anni i Beatles sono del 62 pensa pensa loro loro hanno sconvolto la musica mondiale io beh sì al massimo quella di Monghidoro la storia d'Italia da questo punto di vista per verità all'epoca no dai però ecco il loro primo 45 giri cos'è Love Me Do mi sembra no? Love Me Do 1962 hai anche un'altra ricorrenza importante quest'anno che è legata al festival di Sanremo 50 anni no? Ah sì 50 oh lì potevo stare anche a casa no sei stato fantastico no 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 io ti volevo chiedere più che altro se quella di 50 anni fa non è stata granché medio avevo quella canzone vado a lavorare va a lavorare vai a lavorare no ma è arrivato un telegramma vai a lavorare è ora che tu vada a lavorare firmato Cocchi e Renato no davvero lo racconto nello spettacolo che faccio al Duse tutte le sere a Bologna insomma perché è veramente non so se poi era uno scherzo o se facevano sul serio ma era ora che andassi a lavorare Cocchi e Renato un monito così anche un po' crudele non era fortissimo vado a lavorare mi sono ma sinceramente Gianni tu quest'anno ci contavi sul fatto di poter arrivare diciamo i primi tre al festival la la canzone era bella però insomma c'era mia mia moglie che diceva ma vai a San Remo ma no ma perché ma cosa ma ma arriverai ultimo penultimo ma addirittura veramente un ottimista Anna dopo ho ascoltato il brano ha sentito l'arrangiamento ha detto beh sì forse nei primi 15 puoi arrivare e invece da podio e tra l'altro secondo al contro festival di Radio Bruno nei primi giorni del festival davvero contro festival e questa è una grande notizia per me è arrivato più in alto ancora e nei primi giorni la tua canzone era in assoluto la più richiesta dai nostri ascoltatori quindi io propongo di farla ascoltare come minimo ne aveva parlato adesso bisogna ascoltarla assolutamente era Peter Gabriel siete su Radio Bruno questo è Bruno Mattine abbiamo ospite con noi Gianni Morandi ciao Gianni ma che piacere cantare dopo Peter Gabriel che è di quelli che mi ha sempre spiazzato sono andato a vedere i suoi concerti sono rimasta bocca aperta questi grandissimi artisti veramente adesso l'ho detto così perché mi piace da matti ecco a te non passa mai la curiosità per andare a vedere spettacoli concerti quant'altro ieri parlavo con Marina del teatro d'use mi diceva che oltre a fare i concerti vai anche a vedere i vari eventi l'altra serie di vedere anche Stefano a corsi no la tua curiosità non demorde mai proprio ma sì secondo me è sempre un arricchimento insomma poi vedere gli altri ti accorgi che che magari puoi imparare una cosa una cosa che non ti piace magari la rivedi su te stesso ecco vedi come si muove bene lui perché questo io non lo faccio magnifico questo è bellissimo sabato e domenica sarai al teatro d'use a Bologna altri due concerti poi tre date aggiunte a marzo sono il 10 il 12 e il 13 tra l'altro ricordo con piacere il giorno della riapertura simbolica dei teatri in Italia dopo il lockdown era il 15 giugno del 2020 tra l'altro radio Bruno era la con te c'ero anch'io era stato uno spettacolo bellissimo poi hai dovuto sospendere un po' sei ripartito alla grande addirittura punti pure al giova beach tour ho capito bene ma io sì io voglio vorrei andare insomma lui mi ha detto lorenzo vieni quando vuoi tutte le sere cantiamo il pezzo insieme è bellissimo questo io interrompo lì al duse anche perché mi devo operare ecco quando lo farai ad aprile a maggio subito dopo subito dopo il 13 marzo il primo giorno giusto utile vado a operarmi perché questo dito ti dà fastidio certo non posso suonare non posso fare dimmi stavamo facendo due parole mentre andava la musica no e mi convinco ancora di più del fatto che se la gente ti vuole bene ti apprezza per quello che fai è proprio grazie alla tua umiltà perché nonostante tu abbia fatto quello che hai fatto e puoi dirlo senza che nessuno ti possa contestare assolutamente nulla è la curiosità è la voglia di imparare cose nuove la voglia di prendere cose nuove da altri magari più giovani magari che fanno musica completamente diversa dalla tua però tutto può essere utile dal tuo punto di vista per arricchire per mettersi al passo per aggiungere qualcosa a quello che già fa parte della tua storia e non è una cosa intanto comune io credo di poter dire no ma no ma se uno ama questo lavoro deve deve cercare insomma intanto di rimanere aggiornato su quello che succede perché la musica è cambiata da quando ho cominciato io io ero veramente un dilettante allo sbaraglio e riguardo a quello che mi danno gli che mi hanno dato gli altri negli anni io ho cominciato con morricone con baccalo con migliacci con zambrini c'è gente che ti teneva per mano ti costruiva le canzoni poi dopo sono rimasto tanti anni amico con lucio da lui ho imparato tante cose mi ha insegnato il primo mi ha regalato il primo disco che dice guarda che non esiste solo le tue canzoni e senti questo disco era un disco di rai chals dove dice guarda che si canta anche in un altro modo da lui ho imparato questo da baglioni ho imparato tante cose come stare sul palco sulla perfezione da giovanotti adesso è un altro ma l'energia l'allegria da adriano per esempio adriano ci ho lavorato tanto grandissimo artista hai citato morricone anche fermo un attimo su questo perché io non ho ancora visto il docu film ma chi l'ha visto mi dice che hai una parte preponderante fondamentale che fa capire tante cose anche di questo grandissimo personaggio e della cultura musicale del nostro paese beh io sono una piccola appendice nella vita di morricone però ecco il film è straordinario te lo consiglio perché lo andrò a vedere vedrai un artista che ha parlato con i più grandi registi del mondo che ha cambiato con la sua musica addirittura la fortuna di certi film e questo racconto su su morricone bisogna vederlo io casualmente l'ho conosciuto quando lui faceva solo l'arrangiatore per la rca italiana ecco ecco lo sentiamo lo sentiamo sotto grazie angela bellissimo grande grande davvero meravigliosa abbiamo citato giovanotti il giova tour e allora fammi fare un piccolo richiamo a una telefonata che era intercorsa tra me e te dopo che ti eri fatto male eri particolarmente avvilito eri abbastanza depresso e mi hai detto io non so se ho voglia di rivedere il pubblico ho paura che mi facciano male ho paura che mi prendano contro non ho lo spirito non me la sento dopo un po' l'incontro con giovanotti e ti vedo con l'allegria arriva il disco l'allegria dico ma come l'ho sentito che era triste giovanotti è stata la terapia di gianni morandi vuoi vedere guarda è stato proprio così perché non c'era solo il mio incidente venivamo da un anno e mezzo di covid che è una cosa che ci ha avvilito tutti tutti quanti avviliti soprattutto i musicisti e quindi io ero un po' lì a casa che cercavo di guardavo la mia mano e vedevo che non migliorava stavo un po' insomma di cattivo umore ma hai sentito anche tu sì sì poi giorno mi chiamo giovanotti e vabbè mi aveva già chiamato in ospedale mi aveva detto beh come stai perché insomma è una persona molto sensibile mi ha mandato questo pezzo ti mando un pezzo se ti piace lo puoi fare volevo farlo io ma fallo tu e si chiamava l'allegria è un pezzo difficilissimo da cantare perché infatti nei concerti non riesce a cantarlo con tutti qui quello che ci vuole tutto quello che ci vuole tutte quelle parole ci mette un sacco di parole le canzoni che oggi mi ha detto scusa Lorenzo ma perché metti tutte solo consonanti metti anche qualche vocale dove io posso appoggiare la mia voce ma sai io sono un rapper vengo dal rap e quindi infilo dentro tutte le parole possibili casino casino bisogna fare casino e quindi mi ha mandato questa canzone l'abbiamo registrata e devo dire che è stata una terapia per me proprio anche fisicamente proprio anche la mia mano sembrava che stesse meglio il mio umore certamente è stato bellissimo davvero infatti ho sorriso poi quando ho visto il video con quel look tutto colorato è tornato lui allora io solo per ascoltarla la cosa facciamo ce l'ascoltiamo proviamo a cantarla nonostante sia così proviamo a cantarla se hai bisogno di tirare in fiato ogni tanto fallo perché lascia aperto un po il microfono per vedere se riesca a dargli dietro angelo poco poco abbiamo avuto anche il nostro momento karaoke abbiate pazienza ma ci lasciamo ci siamo lasciati prendere no da questa è stato veramente un momento così di grande entusiasmo un amico discografico nei giorni del festival di sanremo mi ha scritto noi quarantenni siamo qui distrutti con gli occhi in mano tra ritmi serrati e tensioni gianni morandi è in gara e al mattino all'alba va a correre e saluta e sorride a tutti che umiliazione la domanda era quale sostanza usa esatto c'è un'ascoltatrice che ha chiesto se usi degli energetici dei cocktail vitaminici esattamente che cosa mangi se hai scoperto qualcosa di miracoloso o se è tutta genetica e natura ma no secondo me anche un po' anche un po' di allenamento quotidiano quindi ti abitui a fare questa corsetta che se smetti di farla dopo non riparti più quindi io cerco di non fermarmi e quando sono arrivata a sanremo tra l'altro ho incontrato emma un giorno sì che stava correndo anche lei e che mi parlava del fanta sanremo questa cosa del fanta sanremo che io non sapevo cos'era ah giusto no non mi rompere il scatolo con fanta sanremo dico ma cos'è il fanta sanremo dai dai non fare lo stupido che lo sai ma che cosa no poi papalina sì 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 quelle cose vabbè le dicevi tra l'altro sì che poi ho cominciato anch'io a dire niente mi facevo questa corsetta lì c'è una ciclabile proprio bellissima meravigliosa quindi faceva bene alla voce faceva bene allo spirito dai secondo me è una cosa che devono fare tutti ma non correre obbligatoriamente basta anche passeggiare tu dici camminare quindi è solo quello il tuo segreto niente cocktail vitaminici niente cose particolari ma no sì magari qualche integratore qualche un po di vitamine certo le prendiamo dai niente di speciale come tutti del resto la differenza la fa l'abitudine disperatamente di trovare un segreto qualcosa che possa invece non ce ne sono i segreti invece è tutta roba assolutamente genuina una roba che dovremmo fare un po tutti c'è chi ha costanza e chi invece ne ha molta meno e quindi magari ci molla ci aiuta un po il carattere certe volte sai io delle volte sono seduto a un divano che sto guardando la televisione mi sto abbattendo un attimo mi devo dare una mossa via bravo faccio fatica vado fuori faccio tre quattro cinque chilometri quando torno sto meglio una bella doccia e da dio quindi serve bel tempo per queste cose magari e per sapere che tempo farà ci colleghiamo con Trebi Meteo Angelo la settimana scorsa abbiamo fatto parlare Paolo Corazzon con Neck Paolo adesso abbiamo Gianni Morandi va bene io sono onorato senza parole ma sia chiaro io lo dicevo anche in radio per me la più bella di Sanremo è quella del Gianni Nazionale non avevo dubbi altro che Blanco Mammo ma dove voglio andare quelli complimenti complimenti non scherzare Paolo non scherzare che quelli sono forti sono bravi sono bravissimi senza dubbio senza dubbio per la tua canzone niente non me la tolgo dalla testa eh è un scherzino di volta che la sento in radio complimenti davvero scusa Paolo fammi sentire se la canti sempre quant'è bella la lei no quella è l'altra scusa apri tutte le porte stai andando forte vai apri tutte le porte gioca tutte le carte vai vai Paolo lo facciamo entrare il sole no 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 fai entrare il sole dici come dici come faccio entrare come come perché sarà la prima giornata quella di oggi anche quella di domani anche quella di dopo domani quindi ottime notizie con temperature tra l'altro che superano in alcuni casi 15 gradi quindi aria e voglia di primavera cari miei purtroppo avremo però un passettino indietro nel weekend tra fine venerdì e sabato passa una perturbazione portale più freddina ci rifaremo comunque domenica domenica tornerà rapidamente il sole voilà che bello bello fai entrare il sole te l'abbiamo chiesto cantando quindi grazie Paolo un complimenti davvero sentiti ciao ciao Paolo nostro Gianni Morandi ospite di Bruno Mattina Radio Bruno questa mattina ben ritrovato di nuove grazie infinite per essere qui ma no ma grazie a voi che mi avete ospitato già da un po da da dalle 11 che siamo qua e stavo pensando proprio a quando sarò sul palco del jova beach che voglio cantare anche la primavera ecco bravo mi hai dato spazio e io me lo prendo tutto ecco che estate ti aspetti Gianni ma guarda non intanto devo fare questo intervento che mi tiene fermo 40 50 giorni però jova beach comincia i primi di luglio e quindi partiamo da lì io vorrei andarci qualche volta e poi anche se non mi fa cantare vado alla festa perché mi piace moltissimo ma non mi fa cantare cioè il fatto di cantare insieme bellissimo io spero di poterlo fare so che forse si apre tutto non ci saranno problemi di mascherine con le nelle nelle spiagge forse ci si potrà abbracciare si potrà insomma si potrà sudare ballando cantando speriamo che sia un'estate così infatti mi dicevo a giovanotti che fino a un mese fa erano ancora un po preoccupati per perché lì c'è un'organizzazione pazzesca per il gioco per metterlo in piedi altro che anche perché non ho spazio insomma particolare e quindi sembra che tutto vada per il meglio speriamo che chiuda questa cavolo di 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 pandemia e quindi al gioco a bici la primavera ma no manca un mese come manca un mese manca un mese la primavera beh ma lui l'ha fatto apposta lui l'ha fatto arrivare prima però così quando siamo al 21 marzo lui è già pronto e già in corsa tu dovresti andare all'università di bologna tenere delle lezioni magistrali di umiltà intelligenza sociale educazione ce ne sarebbe un grandissimo bisogno è una proposta che vorrei fare perché davvero tu non sei una persona particolare sei unico cioè ci sei solo tu così e questa è una delle tue grandi grandi forze però scusa ognuno è unico anche tu sei unica però in questo ambiente intendo con queste caratteristiche l'unicità di essere sempre così disponibile sorridente educato attento è una delicatezza una sensibilità straordinaria che hai tu e che sai che ne conosciamo un bel po' si ritrova poi di rado così uomini d'altri tempi no diciamo che molti artisti o cantanti adesso dico artisti noi che facciamo questo e sono anche timidi delle volte non hanno non hanno sembrano antipatici perché sono timidi perché non sanno come però col tempo poi si impara ad avere il rapporto con gli altri ad a sapere ascoltare cioè quando tu fai un'intervista e mi lasci parlare mi lasci e mi ascolti e io ascolto te è molto molto più bello invece ci sono delle volte che tu fai una domanda e pensi già alla domanda successiva non ascolti neanche quello che dico e queste sono cose che impari col tempo e secondo me questi ragazzi tutti quelli che cominciano parte ci sono straordinari per esempio blanco lo trovo fantastico è uno che ha una capacità enorme di comunicazione mamma 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 scusa mamma è stupendo anche lui ma tutti questi ragazzini che io ho conosciuto a Sanremo e a parte che sono molto più preparati di noi di quando abbiamo cominciato sono ragazzi non ce ne sono tanti di antipatici di quelli non so no è vero questo è verissimo non lo dirò qui direttamente non lo dirò però forse qualche vecchio trombone come me scusa no forse come dici tu a volte la la timidezza o la scarsa abitudine alla relazione all'apertura perché anche un intervista che può sembrare una cosa anche scontata e dovuta in realtà poi nasconde mille sfumature quindi c'è la possibilità anche di aprirsi a una persona che conosci tanto poco quello che è quindi comunque mettere in piazza eh una buona parte di te stesso che magari custodisci gelosamente da una parte quindi è è un passaggio che magari ad alcuni viene più semplice ad altri un pochino meno molti hanno paura della gente per esempio no di andargli incontro di 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 non so hanno paura di essere aggrediti non lo so aggrediti no aggrediti no ma insomma bisogna imparare ad avere a gestirla anche perché noi il questo lavoro poi lo facciamo per gli altri no per noi ma soprattutto per gli altri credo no aggrediti qualche volta capita perché Renato Zero mi raccontò che a Napoli gli strapparono una ciocca di capelli e quel ricordo l'aveva molto traumatizzato qualche volta succede a te mai sì a me mi hanno rotto un dente una volta no veramente sì ma stavo cantando in mezzo alla gente una mi ha dato una botta qua tac il microfono qua sono rimasto così male sarebbe interessante sapere la reazione quale fu al momento rimasi un po' poi con la lingua sentivo che mancava un pezzettino di questo dente ci ho rimasto male poi non si vede neanche poco poco eh comunque può succedere può succedere però di solito se vai senza bodyguard sai quelli che arrivano sì tu vai la gente ti lascia tranquillo io per esempio quando arrivi qui sono non so 30 40 persone se arrivi con uno che sposta che fa e crei e c'è nessuno già questo contatto e questa mancanza di contatto è vero se vai normale in mezzo secondo me non succede niente almeno io la mia esperienza dice questo Gianni allora siccome sono è mezzogiorno meno dieci quindi vuol dire che purtroppo inesorabilmente stiamo andando verso la fine no ma andiamo a mangiare dopo se ti dico Lucio Dalla ti ho invitato hai detto che devi andare a fare la terapia no ho spostato ho spostato allora andiamo a mangiare non so se c'hai un ristorante lo mangiamo a casa tua se vuoi ti invito però ci sono quattro gatti ti piacciono i gatti no no ma decidi tu io mangio anche i gatti no no se ti piacciono i gattini coccolosi mentre mangi vicino che ti sfregano sulle caviglie no che mangi i gatti mangia i gatti ti ho avverto che sono pelosi potrebbe andarti un po' di traverso ho voluto fare una battuta ma è infelice scusate non volevo dirlo titoli Corriere della Sera Gianni Morandi dichiara di mangiare i gatti non era bolognese cosa salta fuori Vicentino no c'è Vicentino magna gatti dicevano così esatto saluto gli amici di Vicenza che non lo mangiano il gatto allora ragazzi Lucio Dalla dicevo Lucio Dalla ti dico Lucio Dalla la prima cosa che ti viene in mente tanto che sono passati dieci anni che però per noi bolognesi Lucio non se n'è mai andato noi proprio che abitiamo in città io mi immagino sempre che esca da qualche parte sia sempre lì sento la sua musica sento la sua presenza e poi ricordo che dieci anni fa l'ultima cosa che ha fatto è stato il Sanremo dove conducevo io e io lo costrinse a venire che lui poi si inventò di fare il direttore d'orchestra che cantava insieme a Carone e Lucio ci manca molto perché oggi riascoltare quello che ha fatto il suo repertorio straordinario che è fatto di tante sfaccettature di tante tante generi perché lui era veramente uno curioso che cambiava continuamente ci ha lasciato materiale straordinario che ci farà sempre compagnia io lo ricordo ogni sera nei miei concerti faccio sempre un paio di canzoni sue è un'amicizia lunghissima che è nata nel 63 quando eravamo tutti e due tifosi del Bologna che tra l'altro quell'anno vinse lo Scudetto e poi dopo vabbè mi ha regalato quel disco Ray Charles dicendo guarda che non c'è solo l'automobile o Claudio Villa o Modugno c'è anche questo Ray Charles ascoltalo e ti ha aperto un mondo tu dici certo certo mi ha aiutato mi ha insegnato tante cose anche lui era umile è venuto diverse volte al Radio Bruno Estate si metteva in gioco a pianoforte voce chiacchierava con tutti quindi aveva anche lui questo aspetto estroverso della bolognesità questa curiosità e questa volontà di mettersi costantemente in gioco senza sentirsi mai arrivato e già a posto con tutti lui ha scritto delle belle cose anche per me perché a parte vita che abbiamo cantato insieme che è un pezzo di mogolle di Lavezzi però lui ha scritto bella signora per me ha scritto anche a occhi di ragazza i tempi insomma una grande amicizia che è stata anche una collaborazione importante abbiamo fatto 150 concerti in giro per l'Italia per l'Europa poi siamo andati in Russia siamo andati in America insomma bello bello grande cosa grande artista mogolle l'ho visto sabato sera invecchiatissimo però ha una voce per San Marino io adoro quando lo imiti ma non so se lo puoi fare come ti ho detto raggio di sole come stai Morandi canta come l'antica non sono degno di te ancora no cambia è così sei perfetto è esattamente così ci ascoltiamo Lucio Dalla adesso certo dai con una canzone bellissima che è Piazza Grande anno 1972 l'anno in cui ero Sanremo anch'io era Sanremo sì quell'anno lì lui cantava questa io cantavo vado a lavorare scandalo immagini del video che accompagna questa canzone in bianco e nero e riproponevano proprio il Sanremo di cui parlavi tu all'inizio pensi c'era una cantante che si parlava Carla Bissi che era Alice Alice da furlè sempre in quell'anno vinse di Bari con i giorni dell'arcobaleno ma che memoria hai c'era Nada che cantava il re di denari che ero terza fai paura veramente ah beh ma sono anni che sono cose che ho vissuto qua ci sono tante donne che scrivono innamorate di te Mira Gabriella Laura Katia qualcuna chiede se la sposi no è già sposato tuttavia è già impegnata facciamo una cosa una cosa fuori matrimonio già ti ho visto baciare la Pellier che secondo me tua moglie Anna ha detto beh ma così no però sapeva che era un gioco va bene si dicono tutti così un bacio a tutte queste ragazze un bacio a tutte dai grazie una stretta di mano Gianni grazie infinita ve lo abbraccio io per essere venuto a trovarci grazie ancora grazie a voi grazie a Gianni Morandi sono le 11 e 57 minuti arriva l'informazione adesso a domani ciao